Un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 alla provincia dell'Aquila per lavori infrastrutturali urgenti della strada provinciale 17 del Parco Nazionale d'Abruzzo in corrispondenza del ponte sul fiume Giovenco e anche sulla strada provinciale 2 del lago di Campotosto. È stato disposto attraverso una misura all'emendamento al progetto di legge 487 del 2018 approvata in consiglio regionale, di cui sono firmatari consiglieri regionali Maurizio Di Nicola e Pierpaolo Petrucci. Pietrucci ha spiegato che si è trattato di un contributo necessario e urgente che va a beneficio di due arterie strategiche perché fondamentali in caso di emergenza che collegano rispettivamente il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con la Marsica e il Comune di Campotosto con il Comune di Monte Reale. Attraverso questi interventi che i fondi rendono possibili sarà ripristinata la transitabilità e il soccorso in caso di necessità, fondi e interventi necessari per arterie strategiche per la vivibilità e la raggiungibilità delle aree interne e penso in particolar modo, ha spiegato Petrucci, al territorio recentemente colpito dai terremoti.